Insieme, una preghiera per questa umanità, per tutta la società, per tutte le famiglie, ogni papà, ogni mamma, i figli, mettiamo nella preghiera tutti, la chiesa, le istituzioni, tutte le professioni e tutti i popoli, senza distinzione di nessuno, né di cultura né di religione, chi non crede, siamo tutti preziosi, fratelli e sorelle. Non c'ho tanta forza, però insieme un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, veramente liberaci da ogni male, da ogni pericolo, da ogni provocazione del maligno, dal virus e da ogni dipendenza negativa. Liberaci da questo virus, veramente da tutte queste prove forti, ma cerchiamo anche noi, ognuno deve fare la sua parte, che insieme possiamo migliorare questa umanità. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele, San Gabriele e San Raffaele, proteggeteci voi, insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.